E il vinto è Rocky Irwin, Winkler e Robert Chardoff, producci. 28 marzo 1977, un giovanissimo Jack Nicholson annuncia a sorpresa che a vincere l'Oscar come miglior film è Rocky, quello che nessuno si sarebbe mai aspettato, il film costato meno di tutti e che parla del riscatto di un giovane pugile di Filadelfia caduto in disgrazia. E' il primo film sportivo a vincere l'Oscar come miglior film, l'ha scritto e interpretato un ragazzo di 30 anni, il cognome è di chiare origini italiane e di lì a poco diventerà l'idolo di Hollywood, Sylvester Stallone. Il film racconta di un pugile che per arrotondare fa l'esattore di un gangster, Tony Gasco. Proprio quando la sua vita sembra andare a rotoli, Rocky conosce Adriana, ragazza timida con cui allaccia una relazione sentimentale, e poi ha l'incredibile opportunità di sfidare il campione del mondo dei pesi massimi, Apollo Creed. Grazie all'aiuto del vecchio allenatore Mickey, Rocky si rimette in forma e disputa un grande match, mettendo al tappeto il campione, ma perdendo ai punti. Di Rocky sappiamo già tutto. Fu scritto dallo stesso Stallone e inaugurò una delle saghe cinematografiche più fortunate della storia. Grazie a round massacranti, ritmo altissimo, scene indimenticabili, come gli allenamenti di Rocky quando deve rincorrere la gallina, o quando si allena nella cella frigorifera e prende a pugni la carne bovina, fino ad arrivare al grido, al mitico grido Adriana alla fine del film. Tra l'altro la voce di Sylvester Stallone nel primo Rocky, la voce italiana è di Gigi Proietti, mentre gli altri film saranno doppiati dal mitico Ferruccio Amendola. Il film ottiene 6 nomination e 3 Oscar, miglior film, miglior regia e miglior montaggio, e trionfa il botteghino. Pochi però sanno che la pellicola costò poco più di un milione di dollari e ne incassò 116, diventando presto un cult. Tutto nasce da un'idea rivoluzionaria di Sylvester Stallone. Da piccolo soffriva di rachitismo e, mentre i suoi amici se la spassavano e si divertivano, lui invece fu costretto a lavorare e a studiare. La sua passione per la recitazione lo portò a cercare di studiare arte drammatica, ma non poteva permettersi gli studi e dovette lavorare anche facendo lavori umili come spalare il letame allo zoo. Rifiutato per un ruolo nel padrino, per il suo modo di recitare, per quell'espressione facciale dovuta a un nervo reciso alla nascita, Stallone cade in disgrazia. Ma la sua vita cambia, nel 1975, quando in TV vede un incontro di boxe. L'incontro è fra Mohamed Ali, il campione, e Chuck Wipner, un semi sconosciuto. Nessuno avrebbe mai scommesso un dollaro su quest'ultimo, che però, round dopo round, resiste ai colpi di Ali e anzi non va al tappeto, finché, alla nona interminabile ripresa, Ali va al tappeto e sorprende tutti. Il campione si rialza e il match durerà fino al quindicesimo round contro ogni pronostico. Wipner perderà i punti, ma verrà, visto come un eroe, perché aveva saputo resistere al favoritissimo Mohamed Ali. Alle sei di mattina Stallone si chiude in camera e ci rimarrà per tre interminabili giorni, uno dei quali scriverà con una bic per venti ore di seguito, ed è lì che nasce l'idea del primo Rocky. Il potenziale del copione è enorme, e con la scusa di un provino, Stallone fa vedere il suo progetto a due produttori della United Artists, Irwin Winkler e Robert Chartoff. Lo script cattura subito l'attenzione dei due produttori, che ne rimangono folgorati, e per quella sceneggiatura vengono offerti 360.000 dollari, una cifra incredibile se pensate che sul conto Stallone aveva poco più di 100 dollari. L'attore racconta che era stato costretto a vendere il suo cane, poco prima, per una cifra vicina ai 40 dollari, pensate quanto se la passasse male e fosse in difficoltà. Gli attori che avrebbero potuto interpretare Rocky erano già stati individuati, e la scelta era già circoscritta, tra Ryan O'Neill, Bart Reynolds o James Caan. Stallone dice no, si rifiuta, vuole interpretare Rocky, vuole che la sua storia combaci con quella del protagonista della sua sceneggiatura, e quindi dopo aver insistito con i due produttori riesce a convincerli, e per lui il budget è di quelli minimi, 350 dollari a settimana. A proposito di budget, visti i tempi ristretti e il poco budget a disposizione della produzione per fare il film, l'attore inseri molti parenti e amici, tra l'altro il papà compare come cronometrista dell'incontro con Creed, e il fratello Frank Junior è uno dei musicisti di strada che si vedono durante la prima pellicola. Dopo appena 28 giorni di riprese, il film fu pronto, e il finale di questa storia lo conosciamo tutti, questo pugile che ha la sua opportunità di sfidare il campione del mondo, Apollo Creed, in un match rimasto nella storia, che sarà il primo di una serie che faranno di questa saga una delle più amate della storia del cinema, e di recente ripresa e continuata, se vogliamo, sotto l'egemonia del figlio di Apollo Creed, con la saga Creed, che è appena uscito il terzo film della serie, sta continuando ad appassionare ragazzi e giovani che hanno anche la possibilità di riguardare i primi Rocky, io vi consiglio di rivederlo su Amazon Prime Video, ci sono tutti i film della saga di Rocky per uno dei migliori happy ending della storia del cinema. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al nostro canale YouTube Ciarcazione e seguiteci su Facebook e Instagram, dove tutti i giorni pubblichiamo notizie, news e approfondimenti che riguardano il mondo del cinema e delle serie tv. Al prossimo video!